Ciao ragazzi, siccome il Garmin mi ha appena detto che ho la batteria della frequenza cardiaca scarica vi voglio mostrare oggi come si cambia Allora, prima di tutto andiamo a smontare queste vitine conviene sempre prendere un foglio di carta bianca per metterci le nostre vite Allora, leviamo la guarnizione così viene meglio a levare la batteria e poi con delicatezza lo rimettiamo di nuovo Come batteria ci vuole il 2032 come codice Anche perché qua nella picchia batteria c'è scritto, non so se nella GoPro si vede Ok E lo andiamo ad inserire Allora, mettiamo di nuovo il coperchio E ora lo andiamo ad inserire Vediamo Vediamo se con il Garmin lo ritrova Vengendo è stato la fascia cardio Ok, trovata Ok ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile Vi prego di lasciare un like e iscrivervi al canale Ci vediamo in un prossimo video Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti